Presidente Orsini, mai come quest'anno il MADE ricopre una grande importanza per il settore? Diciamo che la parola d'ordine in conferenza stampa che abbiamo usato è la connessione. Io credo che connessione insieme sia una parola d'ordine importante. Ci aspettiamo che dal MADE sia la grande partenza degli edilizzi. Ne abbiamo bisogno e da qui sicuramente cerchiamo di fare magrafano col governo del fatto che abbiamo l'esigenza di sbloccare questi circa 25 miliardi, 8-26 miliardi di lavori, 660 cantieri bloccati. È logico che poter dare un grande impulso su questo e riuscire a far sì che lo sblocco a cantieri parte immediatamente per noi vorrebbe dire sicuramente aumentare il PIL dell'1%. Questo per noi è significativo. Da qui noi vorremmo trasmettere questa forza e il MADE in ogni modo si presenta con quasi i suoi mille espositori proprio per raccontare questa bellissima storia e speriamo che possa funzionare anche per questo. MADE è anche sinonimo di innovazione, di nuovi prodotti, nuove tecnologie? Beh assolutamente sì, rappresentiamo tutte le tecnologie. Io come Federlegno, ma gli amici di Federacciaio, Federbetton, Ance, è logico che qui c'è un po' il sistema, il sistema di tutti, è logico che come parte legno sicuramente l'edilizio di legno oggi sta funzionando ma funziona anche perché è sempre più alta l'attenzione all'economia circolare e in ogni modo a quello che lasceremo ai nostri figli del nostro futuro.